Sangro presenta per il mercato residenziale due nuovi inverter, uno con la desinenza S che sta per Single MPPT e uno con la desinenza D che sta per Double MPPT. Sono due inverter molto compatti per il segmento residenziale, quindi normale fotovoltaico, con caratteristiche molto innovative e tecnologiche. La gamma è molto ampia perché comprende nove diverse taglie, quindi si possono realizzare impianti da 2 fino a 6 kilowatt con le varie taglie intermedie. Sono inverter che possono stare anche all'esterno perché sono i P65 come protezione alle intemperie, ma soprattutto sono inverter molto compatti, leggeri, belli anche da vedere. Sono inverter smart perché possono essere collegati ad internet, sia per quanto riguarda il settaggio dei parametri, che comunque può essere fatto anche tramite il piccolo display che vedete qui sul fronte, ma soprattutto perché una volta online comunicano con il cloud che si chiama iSoraCloud e di conseguenza tutti i dati possono anche essere recepiti sull'app disponibile sugli store per smartphone oppure anche sul portale web www.isoracloud.com. L'app iSoraCloud è completamente gratuita, si può appunto scaricare dagli store, è di semplice installazione e guida anche l'utente passo passo nell'impostazione dell'inverter stesso. In questo modo si possono vedere i flussi energetici, è un'app disponibile anche per i sistemi di storage che abbiamo comunque a catalogo per il residenziale, si possono vedere lo storico e si possono vedere anche tutti i parametri dei dispositivi ad esser associati per essere sempre informati su quello che fa l'inverter su qual è lo stato di salute del proprio impianto.